Musica Pace, grazie e buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Mario Marchiò, Hermanus, e oggi volevo parlarvi di una cosa che mi è sempre stata a cuore, tanto, ed è il fatto che qualche volta leggo la Bibbia e non capisco. So che voi capite tutto, ma sto parlando di quegli altri, quelli che non stanno guardando adesso. Io invece no, non capisco, ci sono tante cose che non capisco, soprattutto nel Ministero di Gesù. Il fatto che dice cose come se la tua mano ti fa peccare, tagliala, se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo, vendi tutto quello che hai, segui me. Sono tutte cose strane per me, perché non sono possibili. Non sono possibili per il semplice motivo che se effettivamente uno dovesse tagliarsi la mano ogni volta che la mano lo fa peccare, non ci sarebbe uno con una mano addosso. Saremmo tutti coi monconi, dal primo all'ultimo, coi monconi, ciechi, senza bocca, senza naso, senza orecchie, senza gambe, senza niente, perché praticamente siamo tutti nello stesso calderone. E se effettivamente noi che diciamo io seguo Cristo, io eccetera eccetera, dovessimo veramente farlo, dovremmo vendere tutto, la casa, la macchina, i vestiti, perché Gesù ha detto vendi tutto e seguimi. E qui non sono solo quelle, ce ne sono tante altre, ma sono appunto queste scritture, questi versetti, che mi mettevano in difficoltà finché non ho visto una cosa. Finché non ho visto, questo molto probabilmente sarà molto contenzioso, non so neanche se è una parola giunta, sarà molto, in inglese si dice contentious, che creerà delle guerre, delle domande, delle questioni, eccetera eccetera, perché? Perché io penso che Gesù aveva due ministeri. Uno come profeta del Vecchio Testamento a Israele e un altro come Messia, come Cristo, a me e a te, ai gentili. Fammi spiegare. Quando, quando è che incomincia il Nuovo Testamento? Pensateci bene, quando incomincia il Nuovo Testamento? La maggior parte di voi avranno una Bibbia come questa, che al, vediamo a Matteo, all'inizio del Matteo, dice, ecco, vedi, qui dice, all'inizio di questo qui, dice, cosa dice? Dice il Nuovo Testamento. E invece no! E invece no! Il Nuovo Testamento non incomincia con Matteo, non incomincia con la nascita di Gesù, incomincia con la morte di Gesù. Guardate! Ebrei, ebrei, capitolo 9, e versetto, leggiamo dal 13. Infatti, se il sangue dei tori e dei capri e la cenere di una giovenca aspersi sopra i contaminati li santifica, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno offrse se stesso, puro di ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente, o per adorare il Dio vivente. Versetto 15. E perciò egli è il mediatore del Nuovo Testamento, affinché, essendo intervenuta la morte, per il riscatto dalle trasgressioni commesse sotto il Primo Testamento, sotto il Primo Patto, sotto il Vecchio Testamento, i chiamati ricevano la promessa dell'eterna eredità. E adesso senti. Poiché, dove c'è un testamento, ci deve essere necessariamente anche la morte del testatore. 17. Il testamento, infatti, è valido solo dopo la morte di qualcuno, perché non ha nessuna forza mentre vive ancora il testatore. Se, non so, alcuni di voi può darsi che abbiate ricevuto un'eredità. Avete ricevuto l'eredità mentre vostro padre era ancora vivo? No. Ci deve essere la morte della persona che ha scritto il testamento, perché quel testamento possa essere valido. Ecco perché il Nuovo Testamento non incomincia con la nascita di Cristo, ma incomincia con la morte di Gesù. Perché? Perché soltanto alla morte del testatore, soltanto alla morte di colui che ha scritto il testamento, a colui che è l'autore di questo nuovo patto, è soltanto con la sua morte che questo nuovo patto viene in atto, si mette in opera. Vedete com'è la... e noi andiamo sempre a vedere quello che dice Gesù, come se lo dicesse a noi. Alcune cose le dice a noi. Sai cosa dice a noi? A noi dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque, chiunque, non Israele, chiunque, crede in lui, non morirà più, ma avrà la vita eterna. Guardate come Gesù non si attacca mai con i peccatori, ma si attacca sempre con i farisei. Perché? Perché aveva due aspetti del suo ministero. Uno, come profeta del Vecchio Testamento, con il quale cercava di dare delle botte a Israele, dicendogli è impossibile, smettetela di pensare di riuscire a tenere la legge, la la Torah, più il Tanakh, più tutte le leggi del Levitico, più il Deuteronomio, più tutte quante, non le potete tenere. Tanto è vero che cosa diceva? Sta scritto che per commettere adulterio tu devi andare a letto con una donna che non è tua moglie, ma io ti dico che basta che tu la guardi e già hai commesso adulterio. Sta scritto che per essere un assassino tu devi ammazzare qualcuno, ma io ti dico che basta che tu dici brutto idiota a tuo fratello e già sei nelle pene dell'inferno. Siamo arrivati a un punto in cui noi pigliamo tutta la Bibbia e la buttiamo, te beccati questo. Vi rendete conto che la legge non è stata data ai gentili? La legge Dio non l'ha data ai gentili, la legge Dio l'ha data a Israele. La legge non ha nessuna funzione, se non quella istruttiva, non ha nessuna funzione punitiva, nessuna funzione di niente per i gentili, perché è stata data a Israele. Sai cosa è stato dato ai gentili? È stato dato in Galati 3,13 quando dice che la maledizione di Cristo è venuta sui gentili su di noi, in quanto che noi potessimo ricevere tutte le benedizioni di Abramo. Cosa è successo? È arrivato il Nuovo Testamento, tutte le maledizioni sono state caricate addosso a Gesù Cristo sulla croce e tutte le benedizioni sono state date ai suoi figli. Perché? Perché come nei quattro testamenti, Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Gesù non è ancora l'autore del Nuovo Testamento, perché deve morire. Lo sta scrivendo, sta scrivendo nel Vecchio Testamento, nei quattro Vangeli, sta scrivendo il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento cos'è? Che basta che se tu credi riceverai la vita eterna. E lo so che è contenzioso, non so se non è una parola giusta, ma è la verità. Leggete Ebrei, capitolo 9, versetto 16 e 17, dove dice se non c'è la morte del testatore, di quello che ha fatto il testamento, il testamento non c'è. Quindi Gesù doveva, ecco perché il velo si è spezzato dal cima a fondo, perché Dio ha detto, questo è l'inizio di una nuova era, non mi ricorderò più dei loro peccati, cancellerò le loro iniquità, metterò le mie leggi nel loro cuore, non avranno bisogno di avere nessun insegnante, sarò io lo Spirito Santo dentro di loro, che li guiderò, che li aiuterò, che li sarò insieme e loro saranno il mio Tempio e io sarò il loro Dio. Questo è l'inizio del Nuovo Testamento. L'inizio del Nuovo Testamento è quando Cristo è morto e gloria a Dio è risolto. E con la risurrezione ha messo lo stampo di Dio su quel Nuovo Testamento, che dice tutto quello che devi fare per ricevere la vita, la benedizione, la gioia, la pace, la presenza, il sorriso, il favore, l'unzione di Dio, è crederci. Non hai nient'altro da fare che non credere a quello che Dio ha detto. Non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai, nessuno potrà mai prendere le mie pecore dalla mia mano. Questo è il Nuovo Testamento, che non inizia con Matteo, ma inizia con la morte di Cristo, con la morte di Gesù. Non inizia con la nascita di Cristo, ma inizia con la morte di Gesù. Cos'ha detto Gesù sulla croce? Cos'ha detto sulla croce? Tutto è finito. Tutto è stato appagato. Tutto quello che c'era da fare è stato fatto. Tutte le richieste, i comandamenti, le domande della legge, della Torah, del Tanakh, del Deuteronomio, del Levitico, di tutte quelle enormità di cose che Gesù dice a Israele, ai farisei, gli dice come Messia, gli dice non potrete mai riuscire ad obbedire queste leggi. ecco perché sono venuto, perché con me inizierà una nuova era, che si chiama il Nuovo Testamento. E quando la Bibbia dice che è venuto il Nuovo, il vecchio diventa assoluto, diventa senza nessuna utilità. Quindi, amico mio, ricordati, prima di tutto la legge non è stata data per te, è stata data per Israele. Quindi tu come gentile, un altro esempio, veloce, 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 vi ricordate che Gesù, quando lo hanno accusato, eccetera, eccetera, Gesù cosa ha detto? Dice quanti lebrosi c'erano in Israele ai tempi di Naman? Eppure lo Spirito Santo, il Dio, ha guarito Naman che era un siriano. Quante vedove c'erano a Sarepta quando il profeta è venuto e ha benedetto la vedova? Quante donne c'erano in Sirofenicia quando ho guarito quella donna Sirofenicia, la figlia della donna Sirofenicia? Quante c'erano? Perché dice questo? Perché ho guarito i gentili? Perché non avevano bisogno di fare niente! Gli altri avevano bisogno di portare l'agnello, di portare il sacrificio, di fare questo, di fare quell'altro. Perché? Perché Dio aveva detto per poter fare queste cose dovete fare queste cose. E loro hanno detto, va bene, lo facciamo, invece di dire, no, guarda, pensaci tu. Quindi, ricapitolando, il Nuovo Testamento non incomincia con la nascita di Cristo, ma incomincia con la morte di Gesù. È sulla croce che inizia. Quando Gesù dice, tutto è finito, tutto è completo, ho fatto tutto quello che c'era da fare, non c'è più nulla da fare. In quel momento il Nuovo Testamento parte. Il Nuovo Testamento che dice, tutto quello che è stato fatto, tutto ciò che devo fare io per ricavarne i benefici, è credere a quello che è stato fatto. Quello è il Nuovo Testamento, basato sulla fede e non sulle opere. E sulla fede per sempre, non sulle opere. Non che tu entri ed esci dalla casa di Dio e oggi sei figlio, domani non lo sei, dipende dal tuo comportamento. No, se tu sei figlio, sei figlio per sempre. Perché questo è quello che ha, che è riuscito ad ottenere Gesù Cristo. Guarda, guarda quello che dice, guarda quello che dice Su, Ebrei 3,5, Ebrei 3,5 dice questo. 3,3, infatti Gesù è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto maggior gloria a colui che ha fabbricato la casa della casa stessa. Ora ogni casa è costruita da qualcuno, ma colui che ha fatto tutte le cose è Dio. E Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa come servo per testimoniare delle cose che dovevano essere detto. Ma Cristo come figlio lo è sopra la propria casa e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferna la franchezza e il vanto della speranza. Perciò cosa dice lo Spirito Santo? Oggi se udite la mia voce, eccetera, eccetera, eccetera. Mosè era un servo, Cristo era un figlio, Cristo è un figlio. Quindi se segui la legge, se segui il Vecchio Testamento, se segui il Ministero di Cristo a Israele nei quattro Vangeli, sei un servo. Vuoi essere un figlio? Accetta il Nuovo Testamento, che dice che sei figlio per nascita, non per merito. A me, che Dio vi benedica. A me, che Dio vi benedica.